Uno strumento di partecipazione al quale non si è dato alcun seguito. Cittadinanza Attiva di Sciacca oggi prende posizione in merito ai progetti presentati negli anni da associazioni e comitati, accolti e finanziati, ma che il Comune non ha portato avanti. Sono quelli relativi allo strumento della democrazia partecipata. Cittadinanza Attiva, rete dei procuratori, dei cittadini, aveva partecipato al bando del 2021 e il progetto, finalizzato a valorizzare un luogo di verde pubblico della città, si era utilmente classificato tra i primi tre aggiudicatari dei microfinanziamenti messi a disposizione dalla Regione nelle casse comunali. Poi, più nulla, nonostante i solleciti sia verbali che scritti all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Amministrazione Valenti, per mettere utilmente in moto la procedura esecutiva di attivazione e di utilizzazione del microfinanziamento. Adesso arriva dal Comune il nuovo bando per democrazia partecipata 2022 con Cittadinanza Attiva, che ritiene l'iniziativa senza senso, oltre che un'ulteriore ingannevole perdita di tempo per cittadini, associazioni e comitati. A questo punto, evidenziano Pierina Di Martino e Nino Porrello, vorremmo capire perché al progetto di Cittadinanza Attiva, risultato vincente nel 2021, non è stato dato alcun seguito, dove sono finiti 4.000 euro a tal fine destinati, così come tutte le altre risorse negli anni destinate allo strumento della democrazia partecipata. Addirittura non si è dato seguito al progetto relativo al borgo dello stazione del 2020 e prima ancora a quello della villetta di San Michele. Per quest'ultimo, evidenzia Cittadinanza Attiva, c'è anche l'aggravante di ulteriori somme aggiuntive versate al Comune direttamente da parte di privati e associazioni per rendere possibile la realizzazione dell'idea progettuale sulla villetta di San Michele, di cui però non si è saputo più nulla. Alla nuova amministrazione, Cittadinanza Attiva chiede di recuperare i progetti sepolti nei cassetti degli uffici comunali finanziati ma non realizzati, altrimenti la democrazia partecipata è soltanto una presa in giro.